Era sotto controllo da tempo da parte dei carabinieri che sospettavano detenesse delle armi per vendicarsi dell'ex fidanzata che l'avrebbe lasciato per alcuni comportamenti persecutori nei suoi confronti. I sospetti erano fondati. Al termine delle indagini, infatti, i militari della tenenza di Mira hanno arrestato in flagranza un 26enne incensurato del posto. In casa aveva un vero e proprio arsenale. È stata trovata una revolver calibro 6 mm con matricola a brasa di nazionalità cieca, quindi clandestina. Una balestra con cannocchiale e 8 dardi, 48 cartucce a fuoco calibro 380 mattazione, uno stimolatore elettrico ad alto voltaggio, due pistole, oltre a 48 cartucce 9x17 integre, 162 proiettili calibro 4.5 e una bomboletta per ricarica pistola. Sono state tutte sequestrate, mentre il 26enne, senza qualsiasi autorizzazione, arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Maggiore a disposizione dell'autorità giudiziaria.